Musica Abbiamo parlato dei rapporti fra Roma e le altre popolazioni italiche e dell'influsso che da queste altre popolazioni giunge al latino e come il latino entrando in contatto con lingue diverse viene in qualche caso e in qualche modo trasformato. Ma anche all'interno del latino non dobbiamo pensare che ci fosse una assoluta unità. Pur essendo lingua di una popolazione non numerosa e che non abitava su un territorio particolarmente esteso, anche il latino presentava al suo interno delle differenze. Probabilmente non così evidenti come quelle che si possono riscontrare in una lingua moderna tra le varie parti della sua popolazione, ma comunque tali che noi possiamo ricostruirle e valutarle nelle loro caratteristiche. Se pensiamo al confronto con il mondo moderno è chiaro che anche nella sola Italia la pronuncia, il modo di parlare, le stesse parole non sono affatto uguali da una parte all'altra della penisola. Un abitante di Bergamo non solo non parlerà come un abitante di Catania, ma non parla neppure come un milanese. Dunque anche a breve distanza, a distanza tutto sommato limitata, la pronuncia ha delle caratteristiche abbastanza differenti. Nel caso, ad esempio, della regione che meglio conosco, la Campania, la differenza di pronuncia tra una città capoluogo, il centro urbano come Napoli, e delle zone della periferia, penso ad esempio ad Afragola, sono all'origine del successo di alcuni comici che, introducendo parole con la pronuncia afragolese, imitano questo o quel personaggio, e quindi ottengono dei risultati che all'orecchio del napoletano risultano caratterizzati come parlate non urbane, non del capoluogo. Questa tipologia di pronuncia, differenziata tra il centro urbano e le zone dell'anche immediata vicinanza, ha un preciso corrispondente nell'ambito del latino. perché tra latino rustico e latino urbano sono evidenziabili delle sicure divergenze. Tra l'altro è interessante vedere come in alcuni casi lo sviluppo che poi la parola ha avuto nelle lingue moderne sia più indirizzato verso quella che era la forma della parlata rustica piuttosto che in direzione della parlata urbana, proprio perché sono stati i gruppi più popolari quelli che hanno trasformato il latino nelle lingue romanze e non si è trattato dunque di un residuo di forma colta. Vediamo qualche esempio di alcune parole che dimostrano chiaramente in che modo ci fosse una differente pronunzia o una riferente scrittura laddove la scrittura era documentata tra l'ambito urbano e l'immediato contado, le zone della campagna circostante nel Lazio. Nella prima schermata voi trovate al solito sulla destra la pronunzia e la scrittura latina, sulla sinistra le forme di origine urbana, di origine rustica, di origine campagnola. Il primo esempio è un classico. Per dire il bue, bos bovis, ha prevalso la forma bos, che è un tipo di pronunzia rustica, al posto di quella che sarebbe stata una pronunzia urbana se avesse prevalso la forma urbana, bus. Ricordate che abbiamo già sottolineato come quella b a sua volta poi è una presenza non latina, quindi è un doppio caso di influsso sul latino. Da un lato di lingue italiche esterne, dall'altro del contado latino sulla città. E questo è abbastanza ovvio perché quale parola più di bue è una parola di tipo rustico. È chiaro che gli abitanti della città avevano con i buoi meno consuetudine di quanta ne avessero i contadini. E quindi gli abitanti della città finirono col chiamare i buoi, il bue boss, così come lo chiamava il contadino, che era il contadino che imponeva la propria consuetudine col boss introducendo il termine linguistico boss anche all'interno della città. Trovate poi, come terzo esempio, all'interno di questa lista, il caso di coda-cauda. È uno di quegli esempi in cui il dittongo au si riduce alla o. Aurum diventa oro. E così, auris diventerà orecchia attraverso una serie di passaggi e così via. Nel caso cauda-coda, voi avete la forma urbana cauda e la forma rustica coda. L'italiano recupera gli aspetti di fonetica rustica, anche perché la coda, ovviamente essendo degli animali, è ovviamente più rustica, ma le forme con cauda sono rimaste in alcune parole dotte, che sono state create successivamente, non sono di continuità linguistica. Per cui noi diciamo caudato, quando usiamo questo aggettivo colto per dire una cosa che ha una terminazione a forma di coda, diciamo che è caudato, se porta la coda. E questo caudato è un termine moderno creato sulla base del latino dotto, del latino urbano, cauda. Se vediamo al rigo immediatamente successivo, avete la frode, fraus, fraudis. La frode, fraus, frode, come vedete anche qui il ritongo au ha dato in italiano come sviluppo la o, mentre evidentemente dall'ambiente rurale proviene l'avverbio frustra, cioè inutilmente, invano. Il concetto è collegato a fraus perché l'inganno rende inutile, fa sì che non sia utile, che non serva qualcosa. In conseguenza della fallacia che c'è nella fraus diventa vana la cosa di cui si sta parlando, che si cerca di fare. Come vedi, in frustra, rispetto a fraus, c'è stata una semplificazione della vocale, non nella direzione della o, ma in una direzione più oscurata, che è appunto quella della u. Sempre al caso del passaggio au o, avete due classici nell'ambito dei nomi propri di persona. Plautus, che corrisponde a Plotus, in ambiente rustico, e Claudius, che corrisponde a Clodius, in ambiente rustico. A proposito di Plauto, il famoso commediografo latino, il nome di Plauto coincide con quello di un personaggio dai piedi piatti, che cammina dimostrando questo proprio difetto in maniera evidente, e che è quello che ruralmente viene chiamato Plotus. Dunque, Plauto ha il nome di questo Plotus, personaggio Plotus, che porta sulla scena. Nel caso di Claudius, abbiamo una situazione ancora più interessante, perché la Gens Claudia era una delle famiglie più nobili di Roma. Appio Claudio Cieco è stato uno dei consoli più importanti, più famosi, attivissimo durante le guerre di Roma contro le popolazioni greche dell'Italia meridionale, in particolare nelle guerre contro Taranto, e a lui si deve la creazione della via Appia, che appunto ha preso il nome da Appio Claudio Cieco. Già prima di Appio Claudio Cieco, e molto dopo Appio Claudio Cieco, la Gens Claudia, è stata una delle famiglie più nobili e più importanti della Roma antica. Un esponente di questa famiglia nobilissima, a un certo punto della propria esistenza, fece una scelta, tra virgolette, politica, cioè decise di passare dal partito degli aristocratici, dal partito degli ottimati, al partito opposto. Come segno di questo passaggio cambiò il nome, decise di cambiare il nome e invece di Claudius decise di chiamarsi Clodius, così come il suo nome sarebbe stato se invece di appartenere alla nobiltà della città fosse stato un qualunque contadino, un qualunque campagnolo, un qualunque appartenente ai gruppi dei popolari. Questo Clodio è il personaggio che fu ucciso poi da Milone e Cicerone scrisse la famosa difesa di Milone, la promilone per l'uccisione appunto di Clodio da parte di Milone. La sorella di questo Claudius divenuto Clodius era Clodia la donna amata da Catullo con lo pseudonimo di lesbia. Come vedete non si tratta di figure prive di peso e nell'ambito della storia e nell'ambito della letteratura. Due casi dunque in cui abbiamo la possibilità di un confronto preciso di un confronto sulle carte tra un modo di denominare i personaggi nella città e un modo di denominarli invece nell'ambito urbano. Altri tipi di attestazione di una differenza tra il latino rustico e il latino urbano riguardano invece il tipo di aspirazione iniziale. La lettera iniziale H del latino in ambito urbano aveva l'aspirazione che siamo soliti notare attraverso questo segno che poi progressivamente si è spento. In ambito rurale invece l'aspirazione stessa veniva notata in una forma che diremmo più forte cioè attraverso una lettera F. Guardiamo questa seconda tabella. Alcune di queste parole riguardano i nomi propri come la gens horatia che in ambito rustico era foratia altre riguardano alcuni tipi di professioni come colui che osserva i voli degli uccelli per cogliere i segni dei profezie del futuro la riolus che fuori di Roma in campagna si scriveva poi la pronuncia non è che la possiamo ricostruire al 100% ma comunque vedeva una F all'inizio invece dell'H fariolus così per esempio il capretto hedus diventava fedus con la perdita anche del dittongo in questo caso al di fuori dell'ambito urbano così hircus il caprone diventava fircus così il granaio hordeum diventava fordeum così il terreno humus diventava fuma e così via questo tipo di cambiamento H F non ci deve stupire particolarmente non dobbiamo considerarlo come un fenomeno strano irripetibile senza confronti pensiamo a quello che è nel rapporto tra le lingue romanze un'analoga alternanza per esempio a proposito di haienda e fazenda quando c'è questo tipo di alternanza F H in lingue di ambito spagnolo non ci stupisce dal verbo faccio noi abbiamo avuto dal faccio con la F in ambito anche urbano in questo caso abbiamo avuto un analogo passaggio un'analoga differenziazione per cui troviamo un H iniziale che al medesimo ambito linguistico fonetico ci rinvia rispetto a questo stesso fenomeno ancora un altro tipo di fenomeno di cui abbiamo parlato già nel corso della lezione passata è quello della caduta di una vocale in una sillaba interna intanto in questa schermata che è alle mie spalle all'inizio ritrovate quel termine haedus edus in questo caso per la pura e semplice caduta del dittongo quindi non fedus ma semplicemente herus non ci interessa qui il problema del modo con cui viene indicata l'aspirazione iniziale guardiamo invece la seconda parte di questa schermata in questa seconda parte della schermata voi trovate tutta una serie di parole che si scrivono nel latino classico come nella colonna di destra ma che all'interno del latino rustico presentavano la grafia della colonna di sinistra la cosa che unifica tutte queste parole è la caduta di una vocale breve nella penultima sillaba guardiamole una per una in latino per dire caldo si diceva calidus calida calidum calor il calore questa parola calidus nella zona rurale per la caduta della i breve nella penultima sillaba è diventata caldus calda caldum è uno dei centomila casi in cui la pronunzia rustica è quella che ha avuto il nostro esito romanzo noi in italiano diciamo caldo non diciamo calido tranne in alcune rarissime parole dotte dove si può riprendere l'origine cali ecco in qualche caso noi possiamo avere delle parole che derivano da quella forma in cui ancora è presente la i vediamo un'altra parola ancora più interessante auricula auricula è un diminutivo è un diminutivo di auris auris da solo significa l'orecchio però progressivamente per un fenomeno che si chiama di svalutazione semantica la svalutazione semantica fa sì che sia necessaria una parola che ha un significato un po' più ricercato in quanto la parola vecchia si è consumata per esempio vecchio è un caso di svalutazione semantica rispetto a vetus il latino diceva vetus per dire una cosa vecchia poi si è usato il diminutivo vetulus vetulus ha dato vetulus vecchio quindi vecchio è un diminutivo vuol dire vecchietto originariamente ma la svalutazione semantica ha fatto cadere vecchio e fatto diventare vecchietto uguale a vecchio così il caso di auricola auricula che significa orecchiuso orecchietto piano piano con la caduta del termine originario auris è rimasta l'unica forma per indicare l'orecchia questa parola auricula in ambito rurale in ambito rustico trasformava la au in una o e faceva cadere quella u della penultima quindi auricula diventava auricla auricla è appunto l'orecchia orecchia deriva da auricla e non da auricula da auricula deriva auricolare naturalmente che è una parola adotta non di continuità romanza ma di recupero moderno dal latino frigidus con la caduta della i penultima della penultima sillaba in ambito rustico si è avuto frigidus e frigidus diventa freddo da frigidus abbiamo frigidera per esempio in francese e così via ma frigidus è il nostro freddo da luridus abbiamo lurdus lordo in questo caso anche lurido è una parola che deriva dalla forma luridus ma certamente tra lurido e lordo lurido ha una caratterizzazione un po' più alta di registro linguistico lurido è una parola che si può dire con un po' di dignità in più l'ordo è una parola invece che appartiene a un livello di comunicazione più umile più modesto meno proponibile particolarmente significativi perché i numerali hanno sempre un grosso peso negli studi sulla lingua sono i casi di viginti e triginta viginti con la caduta di quella i che in sé per sé è breve anche se poi è seguita da due consonanti e quindi la sillaba si allunga per cui leggiamo viginti con la caduta di quella i ha dato origine a un vignti vignti non si può pronunziare è venuto fuori vinti e vinti è il nostro venti allo stesso modo triginta ha dato origine a un trignta trignta ha dato origine a un trinta e trinta è il nostro trinta come vedete anche in questo caso il vinti e il trinta hanno avuto sbocco nelle lingue moderne il viginti e il triginta li troveremo forse in alcune parole particolarmente dotte per esempio vigintivirato si dice il vigintivirato per fare riferimento a una particolare magistratura romana ma è una parola dotta insomma non c'è una continuità linguistica di questa parola vediamo adesso un altro tipo di termini che comunque hanno a che fare con questo rapporto tra latino rustico e latino urbano cioè una serie di parole che entrano nel lessico cittadino ma nascono nel lessico rustico e entrando nel lessico cittadino piano piano acquistano dei significati nuovi si spostano dall'originario valore legato alla vita della campagna verso un valore più specificamente urbano quindi abbiamo un elenco enorme naturalmente nella schermata dovremo per forza sceglierne alcuni prendiamo per esempio deliro nella prima colonna alla lettera D deliro che significa poi come sappiamo delirare in realtà significa originariamente io esco dal solco quando il contadino ara con il solco deve fare in modo da fare un tracciato diritto se l'aratro esce dal solco si storce tutta l'opera dell'aratura è rovinata cioè l'aratore che fa dei solchi storti non è un bravo aratore è un aratore fuori di sé è un aratore che fa cose da pazzi questo delirare che originariamente significava sbagliare nel tracciare il solco tracciandolo non dritto ma un po' storto una volta entrato nella città ha acquistato un significato prima metaforico e poi reale che va nella direzione del nostro attuale delirare subito sotto deliro ci avete un caso ancora più gradevole quello di egregius egregius che è una parola così per bene e così rispettabile in realtà deriva dal gregge egregius è un animale che si distingue dal gregge a tal punto che uno lo nota lì in mezzo quindi è una bestia particolarmente bella ma sempre bestia è e sempre del gregge faceva parte quando egregius è passato in città i romani hanno progressivamente caricato egregius di una serie di valori di rispettabilità che hanno finito col dare ad egregius un valore completamente diverso l'ultima parola della colonna Felix Felix si dice di un raccolto particolarmente abbondante e l'annata buona l'annata in cui il prodotto è molto questa abbondanza ricchezza trasferita in città significa gioia allegria contentezza fortuna anche in alcuni casi così se prendiamo per esempio manipulus manipulus vuol dire una quantità di grano una manciata di grano quando si miete il grano con una mano si afferra una certa quantità di steli di grano e con l'altra mano si tagliano il manipulus è quella quantità di pianticelle di grano che si riescono a prendere con una mano questo manipulus passato in città dove non si miete il grano ha significato un gruppo di persone una certa quantità di persone e poi il nostro manipolo di persone ancora più divertente nilum nil nil nilum significa niente nel significato che ha poi la parola in realtà questo nilum deve la sua origine a neppure un filo d'erba neppure un pelo dunque un ambiente in cui fili d'erba e pelo sono all'ordine del giorno sono cose piccolissime di nessuna importanza arrivati in città non si avverte più la presenza di questo hilum all'interno di nil ma è semplicemente un valore assoluto per nulla l'ultima parola di questa colonna e la prima della parola successiva peculium e pecunia sono poi a loro volta curiose perché entrambe hanno a che fare con la ricchezza con il danaro una ricchezza e un danaro che progressivamente sono sempre più calcolate sulla base della moneta pecuniario e così via anche nelle lingue moderne sono semplicemente termini di ricchezza ma peculium e pecunia lo dimostra chiaramente la parte iniziale delle parole nascono da pecora perché peculium e pecunia è la ricchezza in pecore di una persona è il benessere che nasce dal fatto che uno è proprietario di molte pecore ma una volta arrivati in città quella parola le pecore ha finito col significare l'oro l'argento le monete che si avevano nella cassaforte e non le pecore qual era il valore originale della parola un ultimo esempio per concludere questa lista prendiamo proprio l'ultimo visto che abbiamo già fatto un accenno a vetus che significa vecchio e che è diventato vecchio per la svalutazione semantica del termine che ci ha costretto a utilizzare il suo diminutivo vetulus beh vetus in realtà prima che vecchio significava bestia vecchia tant'è vero che la cura delle bestie vecchie si chiama veterinaria e veterinaria deriva proprio da questo termine vetus cioè quegli animali che a causa della loro età piuttosto avanzata non riuscivano più a fare le cose per cui erano graditi ai loro padroni e in qualche modo dovevano essere curati dunque il termine vetus originariamente relativo all'animale vecchio arrivato in città si riferisce poi prevalentemente agli uomini e da termine rustico finisce col diventare un termine completamente accettato nell'ambito della lingua senza alcun problema ora una volta stabilito questo tipo di rapporti che si sono sviluppati progressivamente tra il latino della città e il latino della campagna vediamo progressivamente questo latino della città destinato a diventare il latino letterario e quindi il latino che noi conosciamo meglio il latino che per noi è più attestato in che maniera progressivamente si normalizza cioè in che maniera finisce col perdere alcune forme marginali e con il consolidarsi nell'ambito di una sua specifica struttura ci sono alcune forme che finiscono col cadere a vantaggio di altre che hanno il merito di essere più facilmente ricordati più facile da ricordare e soprattutto di essere presenti in più declinazioni o in più coniugazioni vediamo qui nella schermata ad esempio cade un genitivo singolare in osio a favore del genitivo in i lo troviamo in omero lo troviamo poi in latino ma cade il genitivo singolare in as ricordate che ne abbiamo parlato familias a un certo momento non c'è più e rimane il genitivo in ae i dominativi plurali in as anche essi vengono meno gli ablativi strumentali in di il genitivo plurale finisce con l'essere sempre in orum arum orum e non in um che rimane soltanto nella terza e quarta declinazione così anche il pronome relativo viene normalizzato sulla base della flessione degli aggettivi di prima classe e perdono quelle forme che sarebbero state proprie della flessione pronominale lo stesso nel caso di ic e coc e di is e aid le forme di dativo e ablativo plurale vengono semplificate sulla linea delle forme degli aggettivi di prima classe ancora sul piano della normalizzazione esaminiamo alcuni casi che sono più interessanti perché la loro scomparsa nell'ambito della lingua destinata a diventare letteraria non significa scomparsa assoluta in quanto rimangono certamente come forme in ambiti parlati tant'è vero che hanno avuto l'esito romanzo se fossero scomparse del tutto non sarebbero poi state ripristinate vuol dire che sono continuate in maniera sotterranea al di sotto di un latino letterario normalizzato vediamo per esempio dal verbo audio della quarta audire vi ricordate che quando abbiamo spiegato il verbo abbiamo detto che l'imperfetto fa audiebam e non audibam eppure noi in italiano diciamo udivo e non diciamo udievo allora se l'italiano dice udivo all'imperfetto evidentemente deriva da un audibam che si è cancellato in latino classico a favore di audiebam ma deve essere rimasto se no non si spiegherebbe l'italiano udivo così il futuro audibbo è stato cancellato da audiam ma deve anch'esso essere rimasto un altro caso ancora più curioso alla terza persona plurale del perfetto vi ricordate che noi abbiamo detto che c'è il tipo laudaverunt e laudavere ora quel tipo laudaverunt amaverunt in questo caso in realtà originariamente aveva l'accento sulla terz'ultima amaverunt laudaverunt non sulla penultima e l'accento scende sulla penultima per analogia con il tipo inere quindi amavere laudavere condizionano amaverunt e laudaverunt facendolo diventare amaverunt laudaverunt però amaverunt non deve essere mai morto del tutto tanto è vero che noi diciamo amarono con l'accento sulla A così come amaverunt dicevano i latini prima della normalizzazione letteraria vediamo qualche cosa nell'ambito della sintassi nell'ambito della sintassi per esempio è evidentissima la caduta del costrutto dico quad io dico che dico che tu sei buono il latino dice dico te bonum mes proposizione oggettiva accusativo e l'infinito nelle forme precedenti più popolari ci poteva anche essere dico quad bonus es dico quad bonus es è la costruzione sintattica che torna nel latino tardo medievale e poi nel latino diventato lingua romanza anche l'interrogativa indiretta con si cioè ti chiedo se queste cose siano giuste o no invece che num non ne e così via la particella introduttiva si bene non c'è nel latino letterario ma in qualche modo deve essere sopravvissuto se noi nelle nostre lingue romanze costruiamo sintatticamente dei casi di interrogativa indiretta in cui la congiunzione che introduce la domanda è proprio questo si e infine una questione di stile di ordine di parole il latino tende ad affermare come esclusiva una costruzione in cui il verbo viene collocato verso la fine della frase e le altre parole sono prima cesarem vidi romam veni questa tendenza che nel latino letterario si afferma non è però assolutamente presente comunque e da per tutto tant'è vero che nelle lingue moderne noi non diciamo frequentemente a Roma venni Cesare io vidi ma diciamo vi di Cesare e venni a Roma quindi con la costruzione che è esattamente l'opposta di quella che invece noi troviamo come costruzione normale nell'ambito del latino leggiamo adesso alcuni esempi di testi latini di epoca particolarmente antica questa lettura ci dovrà dare la possibilità di ricostruire alcune delle forme del latino più arcaico sia in ambito pre-letterario sia in ambito letterario vi dico in ambito pre-letterario perché la letteratura latina agli occhi dei latini stessi aveva una precisa data di nascita la metà del terzo secolo avanti Cristo tutto ciò che era precedente alla metà del terzo secolo avanti Cristo era prima che la letteratura latina ci fosse dunque tutti i testi che noi abbiamo recuperato a volte anche di una certa lunghezza di una certa ampiezza che risalgano a un'epoca precedente agli occhi dei latini erano pre-istoria noi abbiamo addirittura alcuni testi che possiamo datare al sesto secolo quindi in piena età regia quando ancora non era nata la repubblica lasciamo stare tutta la parte leggendaria sulla fine del regno l'inizio della repubblica e così via ma certamente ci troviamo in una fase cronologica antichissima della storia di Roma bene questi testi che non rientrano nel periodo in cui la letteratura c'era già ma che hanno un particolare significato come documento di una lingua pre-letteraria meritano di essere esaminati e affrontati in alcuni casi sono iscrizioni in altri casi sono testi tramandati da autori più tardi quando sono testi tramandati da autori più tardi il pericolo di fraintendimenti è molto grosso perché questi autori più tardi possono avere introdotto direttamente o in una delle intermediazioni che ci sono state fra il testo originario e loro delle modifiche degli aggiornamenti degli errori se non capivano più il significato di quel testo quando invece ci troviamo di fronte a una iscrizione dell'epoca in cui quel testo fu composto siamo sicuri che ci troviamo di fronte a qualcosa di originale al modo con cui la lingua veniva scritta e intesa in quell'epoca il primo esempio che abbiamo qui dinanzi nella schermata è uno dei testi più rispettabili e famosi della lingua latina il cosiddetto lapis niger che non vuol dire matita nera ma vuol dire la pietra nera la pietra nera che fu scoperta nel foro ormai cent'anni fa in cui si leggono poche righe secondo una particolare scrittura una scrittura che viene chiamata bustrofedica bustrofedica perché corrisponde al modo con cui l'aratore traccia i solchi nel campo arrivato a un'estremità del campo torna indietro e il secondo solco lo fa in direzione opposta rispetto al primo dunque mentre noi scriviamo sempre da sinistra verso destra mentre gli arabi scrivono sempre da destra verso sinistra la scrittura bustrofedica viene fatta in questo modo arrivati alla fine della riga la riga successiva viene tracciata così la terza riga viene tracciata così la quarta viene tracciata così apparentemente è un modo per semplificare il lavoro perché non si fa un ritorno a vuoto in realtà è una complicazione perché bisogna imparare a scrivere da sinistra verso destra e da destra verso sinistra e per questa poca utilità è stata presto dimenticata in questa scrittura bustrofedica noi troviamo nell'apis lì niger alcune singole parole cuoi chiaramente un dativo cui sacros esed sacros è una forma antica di sacer perché sacer sacra sacrum genitivo sacri dunque tema sacr la forma del nominativo più antico sarebbe stato regolarmente sacrus quel sacrus che invece diventa sacer da un passaggio denominativo senza resinenza sacra che sviluppa una vocale quindi la presenza di sacros ci conferma che in sacer sacra sacrum il tema è sacro sacra esed è il congiuntivo esset scritto con una sola s forse se ne avremo il tempo diremo in una delle prossime lezioni che le doppie consonanti hanno una data di nascita per noi noi sappiamo che la doppia consonante in latino è stata introdotta da ennio uno degli scrittori latini abbiamo documentazione che ci garantisce che fino a ennio le consonanti erano scritte semplici e solo a partire da ennio la consonante viene raddoppiata abbiamo poi la parola seguente che andrebbe letta rechei recei che ci mostra la presenza della c come unica consonante che aveva il suono anche della g ricordatevi che caius scritto con la c in realtà si pronunziava gaius cnaeus in realtà si pronunziava gnaeus e così via in questo caso quella c corrisponde al suono g e lì bisognava leggere reggei che è il dativo di rex regis al re reggei calatorem scritto con il k perché all'inizio perché quando la vocale immediatamente successiva era la a al posto della c si usava k così come quando la parola la vocale successiva era una u veniva usata la q dunque calatorem è un tipo accusativo di un calator cioè di uno che ha il compito di chiamare un messaggero uno che doveva chiamare il popolo che doveva portare un messaggio o qualcosa di simile iouxmenta capia iouxmenta sono iumenta i giumenti iungo il verbo iungo iungsi iungtum chiaramente ha quella g che ha dato origine alla x all'interno della parola e capia è una forma del verbo capio capis cepi captum capere prendere iouestod è la parola più difficile da capire di questa iscrizione probabilmente quella desinenza od ci rinvia a un ablativo strumentale un'altra famosa iscrizione in questo caso in versi sono i versi più antichi dei latini i saturni elogiano un illustre personaggio antenato ripubbio cornelio scipione l'africano onc oino ploirum e consensiont romai duonoro optumo fuise viro lucium scipione filios barbati consol cancel idilis ic fuet apud vos ic ec capit corsi caleriaco e urbe dedet tempestate bus aide meretod in questo caso una serie di caratteristiche fonetiche si accumulano dimostrandoci la evoluzione nell'uno o nell'altro senso dei vari termini questo stesso verso che troviamo nella iscrizione degli scipioni è il verso in cui sono composte le prime opere letterarie spesso traduzioni dal greco per esempio la traduzione dell'Odissea fatta da Livio Andronico che ha come primo verso virum mi camena insece versutum o camena cantami l'uomo astuto l'uomo dal multiforme ingegno come dice Omero e come dicono le traduzioni italiane da Omero qui il verso Saturnio è evidenziato nelle sue due componenti la prima e la seconda parte da quella spaccatura in mezzo che trovate anche nei tre versi successivi voglio concludere con un pezzo di uno scrittore di poco successivo a Livio Andronico che si chiamava Nevio che è forse il primo scrittore più effettivamente latino perché a differenza di Livio Andronico Nevio non è un greco arrivato a Roma in condizione non libera e poi dopo recuperato dai romani e dotato di una certa dignità in conseguenza dei suoi meriti letterari il testo di Nevio è tratto dal suo poema epico Bellum Penicum anch'esso scritto in Saturni qui noi abbiamo una descrizione militare per cui l'esercito romano passò a Malta brucia tutta la città la devasta e la distrugge e si procura il patrimonio dei nemici nel caso di Nevio noi però ci troviamo di fronte a una tradizione indiretta dunque questo testo di Nevio non ci è stato tramandato da una iscrizione ma da un autore più recente il passaggio attraverso un autore più recente chiaramente ha condizionato la grafia voi qui trovate un latino che non può essere il latino dell'epoca di Nevio trovata ad esempio con Cinnat con le due n mentre all'epoca di Nevio ancora non era intervenuta quella innovazione grafica per cui le doppie venivano scritte due volte ma sul successivo sviluppo della letteratura latina sugli altri scrittori che incontreremo nel resto della storia letteraria ci soffermeremo in una delle prossime lezioni arrivederci a